Venerdì 20 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG, prima pagina, le notizie in evidenza dall'Umbria. Si parla certamente di elezioni regionali perché si cominciano a presentare le liste, le coalizioni, in vista di quello che è l'appuntamento politico ed elettorale più atteso di questo fine 2024. E allora andiamo a vedere proprio i titoli dei quotidiani con il Corriere dell'Umbria che dedica proprio alle elezioni regionali, il titolo di apertura è già derby per le liste, i primi nomi dei candidati in corsa per le 20 cariche da consigliere regionale, ci sono veri e propri scontri nei territori, ricordiamo si eleggono 20 consiglieri regionali più uno che sarà il presidente o la presidente della regione Umbria. Poi andremo a vedere qualche dettaglio. E poi l'altro titolo invece è dedicato alla colonna mobile, diciamo così, in aiuto alle popolazioni che nuovamente risultano essere alluvionate in Emilia Romagna, Umbri in aiuto degli alluvionati, partiti primi soccorritori dopo le sondazioni dei fiumi in Romagna e Marche. E ancora per la parte bassa della prima pagina del quotidiano Il Corriere, post-sisma piano contro lo spopolamento dei territori del centro Italia colpiti dal sisma. E poi ieri l'ultimo saluto di Perugia alla famiglia Scoccia, si torna a parlare della strage di Fratticciola Selvatica. Andiamo alla Nazione, dorso regionale. E allora qui il titolo invece è dedicato al caso dello studente Spoletino Matteo. Niente processo negli USA, cadono le accuse contro il giovane Spoletino arrestato e torturato dalla polizia in Florida. La madre dice, ora vogliamo la verità. Anche qui in alto l'ultimo saluto alla famiglia di Fratticciola Selvatica. E poi una storia dal tribunale lite e minacce davanti ai figli minorenni. Una coppia finisce in ospedale e viene anche denunciata. La fotonotizia ci porta a scuola, meglio ancora nella scuola del futuro. Siamo a Perugia con la nuova struttura della Lessi che ospita 350 alunni. Struttura green, lo vedremo poi ovviamente nelle pagine dei territori. Barton Park, più investimenti su arena e palasport. Orvieto, una mamma denuncia. Attesa per ore l'ambulanza per la mia bambina. Ancora Perugia, multa con Mora. Io vessato solo perché anziano e senza internet. Lo vedremo nelle cronache locali. Ancora Papa Francesco benedice il Palio di San Michele di Bastia Umbra. E poi è stato presentato Perso Film Festival. E qui siamo a Perugia. Andiamo al messaggero con la procura che apre un'inchiesta a Perugia sulla donna di 33 anni che è morta a seguito di una caduta dal terrazzo di un appartamento al sesto piano a ferro di cavallo. La procura vuole vederci chiaro. E poi ancora minacce di morte alla moglie latitante. Viene preso a casa della mamma. E siamo a Magione. Ripartono i mutui. La spinta da tasse e ristrutturazioni. In Umbria l'importo medio erogato è di 90 mila euro. E poi a Perugia i cittadini diventano sentinelle contro la sosta selvaggia. A Terni è caro prendere il caffè. La colazione sale alle stelle. Ma c'è la difesa ovviamente dei baristi che dicono per noi aumentare il costo del caffè è inevitabile visto il costo proprio della materia. Prima andiamo a Spoleto. Ex Maran c'è l'accordo. Restano i 141 dipendenti. E poi da Narni due giorni di festa per i 100 anni della corsa delle carrette. Da Spoleto, VIP e ricordi, Casa Menotti torna a risplendere. Andiamo a vedere alcune delle notizie in primo piano dai quotidiani. Questo è il Corriere dell'Umbria che dedica un focus proprio alle elezioni regionali. È già derby per le regionali. Primi nomi e scontri interni. Bettarelli se la vedrà. E quindi siamo del centro-sinistra in Alto Tevere con Fratini e Michelini. Fratelli d'Italia, Gian Bartolomei contro Merli e Pastorelli. Vedremo ovviamente il dettaglio dei nomi nella rassegna stampa delle 7.30. Andiamo al messaggero. Tassi e ristrutturazioni tra i mutui in testa. Ci sono le famiglie. Parla l'esperto. La ripresa generale della richiesta è prevista entro fine anno. Grazie anche alle condizioni favorevoli proposte dagli istituti di credito. E poi elezioni regionali. Ieri è stata presentata, ne parleremo con più dettaglio, nella rassegna stampa delle 7.30 con un servizio, la lista riformista che si schiera con il campo largo di proietti. E poi andiamo sempre dal messaggero a parlare di UNITRE verso il record delle iscrizioni ai corsi, cioè l'università per gli adulti. Il presidente Cuccini. Vogliamo incrementare i punti della nostra università, aperta anche ai giovani. E poi andiamo alla Nazione. Le sue pagine in evidenza regionale. Siamo nell'Orvietano. Ambulanza attesa per ore. Una bimba ferita. La mamma denuncia una vera e propria odissea per arrivare al Meyer di Firenze. La piccola con una frattura ad un piede doveva essere trasportata a Firenze. Alle 11, dicono i genitori, aspettavamo il trasferimento. Alle 15 ancora non era arrivato nessuno. Le minacce con il coltello davanti ai figli minorenni. Qui siamo sempre in Umbria, ma siamo a Perugia. Violenta lite in famiglia per gelosia. Una coppia finisce in ospedale proprio per aver utilizzato in questa lite anche un coltello. La polizia li denuncia entrambi perché hanno litigato davanti ai figli minori che sono stati affidati a familiari. Strage in famiglia, uniti nell'addio. Siamo a Fratticciola Selvatica dopo il terribile eccidio. Tre le persone morte in questa vicenda. celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta a Monteluce, dove avevano vissuto prima di trasferirsi a Fratticciola Selvatica. Lo strazio dei colleghi e del fidanzato di Elisa, la 39enne, una delle tre persone morte. Ancora dalla nazione, tecnologia e ostacoli. La storia di un anziano vessato solo perché anziano e senza un computer. La storia di Mario costretta a pagare 13 euro in più per una multa. Ve la racconteremo nel dettaglio più tardi. Il comune di Perugia dice ci spiace, ecco come può farsi aiutare per evitare disagi. Più tardi ve la racconteremo. Anche la nazione ci racconta della lista riformista a sostegno della proiettica che è stata presentata ieri, così come della lista del fronte del dissenso che candida alla guida della regione Umbria Pasquinelli. Questo per le pagine in evidenza. Allora andiamo a vedere i singoli territori partendo dal Corriere dell'Umbria e partendo da Perugia. Morta dopo la caduta spunta un indagato. Siamo a Perugia. La procura apre un fascicolo sul decesso di Roxana Ivan, precipitata a ferro di cavallo dal sesto piano di un appartamento al culmine di una brutta lite con il convivente. E poi ancora l'addio della città, la famiglia scoccia. Siamo a Fratticciola Selvatica. I funerali si sono tenuti però a Monteluce, quartiere dove i tre vivevano prima del loro trasloco in campagna. Ancora andiamo avanti e sempre dal Corriere dell'Umbria. Siamo a Perugia sempre, ma andiamo a scuola. Alessi su Cursala, in parto zero. Taglio del nastro ieri a Centova per l'Istituto. di nuova generazione che ospita 350 studenti del liceo scientifico. E poi Bartolini Group si aggiudica la denominazione del Palasport, mezzo milione per quattro anni, chiusa la stagione estiva del Barton con 80 mila presenze. Il turismo viaggia a due velocità. Siamo a Città della Pieve, arrivi e presenze in crescita nei primi sette mesi dell'anno, ma luglio è in controtendenza rispetto al 2023. Amagione, perseguita la moglie, viene arrestato un 36enne. Il perugino era ricercato da quattro mesi, si era nascosto a casa della madre. E poi a Tuoro sul Trasimeno, il sodo ospita la prima edizione dell'evento Voci in festa, appuntamento domani. Niente palestre. Il pomeriggio, mio figlio escluso dal Baskin. Siamo ad Assisi, una madre serve una struttura per allenarsi dopo la scuola e sull'argomento interviene anche la giunta. Il concerto per la pace chiude la decima edizione del Cortile di Francesco. Andiamo avanti, ci spostiamo, siamo nel territorio di Todi e allora nel dettaglio, in cammino per la speranza. Tutto pronto per la 33esima edizione con la quale si festeggiano i 40 anni del centro di Fratta Todina. Si chiama Camminata della Speranza. Ancora nel territorio del Tuderte, ma siamo a Marciano, una domenica di eventi con Arritmo di Sport. Sono 22 le associazioni che partecipano a questa manifestazione organizzata in centro dalla Proloco. A Città di Castello, Madonna con Santi torna a casa. La bottega Tifernate ha ricreato l'opera grazie ad una tecnica innovativa. L'hotel Playa rinasce grazie a Giuseppe Ponti e Mirella Bianconi. Il presidente della CMC e la moglie hanno ristrutturato una storica struttura a Torrefa. In centro a Cittello arrivano 400 centauri per la manifestazione dedicata proprio alle moto, la Transitalia Marathon. E ancora, fine settimana all'insegna degli appuntamenti a Città di Castello. Siamo poi nel territorio di Umbertide, utilizzo dei sentieri. L'opposizione propone un nuovo regolamento. 5 Stelle, PD e Progressisti presentano questo documento. L'obiettivo è disciplinare la fruizione dei sentieri per garantire la sicurezza di tutti. Siamo nel territorio di Gubbio, telecamere ancora inattive. Problema da risolvere. Installate dalla passata amministrazione le telecamere per la sorveglianza nel centro storico. il sindaco Fiorucci risponde stiamo intervenendo. E poi ristoria le attività lungo la contessa. Lo chiedono Tasso e Minelli dei LED, Guerrini di Gubbio Democratica. E poi c'è Run4U Color che compie dieci anni e torna nella giornata di domenica. Tutto pronto per il pranzo del portaiolo a Gualdotadino dove si entra nel vivo dei giochi delle porte. Ma vi segnalo anche la festa del cuore che torna con la NACA domani a Sanguido. Ancora il sindaco qui ci spostiamo sulla fascia di sigillo Fugnanesi ha colto in comune il nuovo capitano dei carabinieri Moriglia. Siamo a Foligno, gli 800 della Francescana. Bume di iscrizioni alla ciclo storica dell'Umbria in programma per domenica. E ancora assalto del Croce Bianca. Vuole Melosso del Badia. Parliamo chiaramente di Quintana. Archiviata la rivincita si riapre il waltzer dei cavalieri con un colpo che era stato annunciato. E poi gareggiare dei convivi premiati i banchetti di Contrastanga e Badia. Questa è la pagina dedicata alla Quintana. Siamo a Spoleto. Mano tesa del comune ai meno fortunati. A San Giovanni di Bagliano sarà attivata una struttura di accoglienza. Nei locali della misericordia ci sarà spazio per uno sportello sociale. E poi parliamo del sisma del 2016. Un patto antispopolamento. Firmato a Roma un protocollo d'intesa tra il ministro Calderone e il commissario Castelli. In arrivo 470 milioni per favorire la crescita di nuove imprese under 35. E poi ci spostiamo a Terni. Il caso Bandecchi finisce in Senato. Verini del PD. La destra si allea con chi violenta la città. Parliamo ovviamente di elezioni regionali. Il ministro Piantedosi risponde massima attenzione. Intanto il sindaco attacca i DEM. Assemblea sugli esuberi all'ex Faurecia. L'accordo sulle uscite volontarie con incentivi riguarda 50 lavoratori, di cui 37 operai e 13 impiegati. Ex Camuzzi da riqualificare l'assessore in pressing sulla proprietà dell'area che da anni versa in uno stato di totale abbandono. E poi due condanne per l'aggressione. Tre anni di reclusione a testa per due tunisini che a Terni a febbraio avevano accoltellato un 19enne. Il ragazzo era riuscito a fuggire ed era stato soccorso in piazza Dalmazia con la mano sinistra quasi amputata. E poi i distributori automatici siamo sempre a Terni a scontro. Al question time risponde l'assessore Renzi. L'attività di vicinato con dignità pari ad altre. Ovvero i distributori automatici sono comunque una struttura da tutelare e difendere. Villaggio Matteotti da rivitalizzare. Si comincia con la moda. Il quartiere ha ospitato un evento di cultura e spettacolo. E poi andiamo a Narni. Laboratori prorogati tutto l'anno. Palliografia latina, corna musa, sartoria, teatro medievale, erboristeria sono le materie di questi laboratori del Festival delle Arti. L'Unitrea d'Amelia inaugura il suo 34esimo anno accademico e poi andiamo ad Orvieto che fa promozione di se stessa a Genova. Per il Salone Nautico nel capoluogo Ligbogure che richiama visitatori da tutto il mondo è stato affisso un maxi LED in corso Buenos Aires. Questo era il Corriere. Andiamo rapidamente a vedere le pagine dedicate al territorio umbro dalla Nazione. Ripartiamo in particolare da Perugia con questa scuola high-tech che è stata inaugurata nella giornata di ieri. E allora, eccola qua. Arriva la succursale dell'Alessi la scuola Green per 350 alunni un edificio amico dell'ambiente che è stato progettato dai tecnici della provincia nel cortile c'è anche una fontana che zampilla 13 classi del prime del liceo scientifico trovano posto in questa struttura. E poi parliamo del Barton Park il tesoro di Perugia investimenti da fare su Arena e Palasport tempo di bilanci per Barton Park i fratelli Bartolini verseremo nelle casse del comune mezzo milione di euro intanto a Natale arriva la ruota panoramica più alta mai vista nel capoluogo. Andiamo ancora a parlare dalla Nazione dei singoli territori qui in particolare siamo a Castiglione del Lago Trasimeno, vertice a Roma il lago al commissario nominato Nicola dell'Acqua avrà dotazioni finanziarie per pianificare un piano di azione straordinario per salvare il lago Trasimeno ad Assisi costruttori di pace domani l'incontro alla Domus poi la marcia da Santa Maria l'ente palio di San Michele siamo a Bastia Umbra in pellegrinaggio dal Papa e ancora svolta e qui siamo a Gubbio in piazza 40 Martiri proseguono i lavori di rifacimento del principale accesso al cuore di Gubbio cambiano viabilità ed aree pedonali intanto domani appuntamento alla chiesa di San Secondo dove si insedia il nuovo abate generale Don Edoardo Parisotto e ancora dal singoli territori siamo a Città di Castello chiesti domiciliari per Goracci il giudice si riserva la decisione ne parleremo con più dettaglio nella rassegna stampa delle 7.30 con un'intervista proprio all'avvocato di Cristian Goracci andiamo a San Giustino lavoro incidenti senza tregua ha ferito un operaio di San Giustino i sindacati dicono serve più formazione e poi siamo a Foligno dipendente infedele ruba alimenti e bevande nel marketing cui lavora notato dai colleghi durante il turno di servizio dalle telecamere di sorveglianza la polizia lo ha sorpreso con 15.000 euro di prodotti già caricati sull'auto a Spoleto ex Maran passaggio di proprietà salvaguardata l'occupazione da Ost Italia System House soddisfazione di regioni e sindacati per il totale assorbimento del personale e poi siamo a Terni con il caso Bandecchi ovvero l'alleanza in vista delle prossime elezioni regionali tra Alternativa Popolare e il centrodestra il caso finisce in Senato il ministro dell'Interno risponde ad un'interrogazione sul primo cittadino di Terni fatta da Verini del PD che dice compromessa l'agibilità democratica del Consiglio Comunale di Terni vi segnaliamo dalle pagine della cultura da Perugia anche il Perso Festival 10 anni di cinema sociale torna questo festival con 55 opere da tutto il mondo a Perugia 13 anteprime ed eventi speciali per parlare di pace si parte il prossimo 27 settembre andiamo al messaggero per le sue pagine di interesse locale allora ripartiamo anche in questo caso da Perugia lo facciamo parlando di sosta selvaggia contro la sosta selvaggia arrivano le sentinelle la mappa del fenomeno FIA Bellegambiente avviano un progetto il centro storico finisce sotto la lente di ingrandimento con una vera e propria catalogazione dei problemi che ci sono relativi alla sosta fatta dai residenti e da chi vive sul territorio la nuova scuola di Centova intanto migliorerà la viabilità del territorio ci sarà anche un terminal bus e poi torniamo a parlare da Perugia di questa trentenne staniera che a ferro di cavallo è caduta giù dal sesto piano ed è morta è stata aperta abbiamo visto un'inchiesta e poi morto in ospedale con ago nei polmoni sette medici rischiano la condanna il fatto avvenne il 26 aprile del 2022 all'ospedale Santa Maria della Misericordia perseguita moglie scappa presso a casa della mamma qui siamo a Magione dove un 36enne perugino è stato stanato a casa della madre era latitante da mesi dopo la condanna per le persecuzioni fatte nei confronti della propria moglie è finito a capanne Bastia piante di marijuana di due metri in una casa sono state individuate dalle forze dell'ordine e poi assisi 250 professionisti ad un convegno sulla pubalgia da Foligno commesso ruba il supermercato e viene dove lavora e viene denunciato l'uomo aveva in macchina 150 euro di generi alimentari che secondo l'accusa avrebbe rubato dal market dove appunto lavorava il tango fa tappa al San Domenico domani il duo bandini chiacchieretta e ancora da Spoleto ex Maran è quasi fatta salvati tutti i 141 addetti a preci avanti col restauro della chiesa di San Montano a Terni caffè e cornetta alle stelle i baristi si difendono gli aumenti sono inevitabili viaggio tra i locali della città i prezzi del caffè in salita per la risalita diciamo così del prezzo delle materie prime andiamo a Narni abbonamenti record a Narni si va in autobus sono già mille gli abitanti che hanno deciso di utilizzare il trasporto pubblico e poi Polizia Municipale è stato raggiunto l'accordo sui nuovi turni e sull'uso della body cam questo per le pagina dedicata all'attualità vi leggiamo qualche titolo dalla pagina della cultura e allora siamo a Spoleto Casa Menotti vi per ricordi risplende Casa Menotti riaperta la villa trasformata da Alda Fendi in una vera e propria residenza d'arte bene è tempo di aprire però poi vedremo ovviamente nella rassegna stampa delle 7.30 più dettagli dalle pagine della cultura è tempo di aprire quelle di sport con il messaggero la Ternana va a Pesaro per ritrovare il sorriso l'allenatore Ignazio Abate vuole stemperare l'alta tensione nata per le vicende societarie il mister Campano dice abbiamo un dovere verso i nostri tifusi ed è quello di giocare al meglio e allora si scende in campo alle 20.45 tra la BIS Pesaro e Ternana ma non è chiaramente l'unica squadra che scende in campo perché scende in campo questa sera alle 20.45 allo Stadio Barbetti anche il Gubbio contro Campobasso c'è il Campobasso di Mister Braia che ricordiamo insomma guidava io Gubini lo scorso anno attento Grifo andiamo a Perugia a volte ritornano il Perugia invece gioca lunedì contro il Pescara dell'ex Silvio Baldini esattamente due anni fa il tecnico arrivava a Perugia andiamo al Corriere dell'Umbria vediamo le pagine di sport che ripartono proprio dal Perugia Grifo precedenza a destra Cisco e Mezzoni formano un asse che rappresenta il punto di forza dei Biancorossi e poi Fere in vendita ma non a Mancini questo il titolo su due pagine dedicata alla Ternana pare saltata la trattativa con l'imprenditore romano restano in corsa un fondo Lombardo e un gruppo diciamo così dell'ex patron fedeli intanto per la Ternana in campo ai box solo il centrocampista Loi confermato l'undici antipineto Marchigiani con l'ex Nicastro abbiamo detto si scende in campo alle ore 20 e 45 e alle 20 e 45 scende in campo anche il Gubbio al Barbetti contro la squadra dell'ex Braia Taurino tiene alta la guardia bene i derby ma lì non c'era bisogno di grandi stimoli con il campo basso se avremo cali di tensione rischiamo di cadere nella trappola bene questo per le pagine di sport che chiudono questa nostra prima pagina ma vi ricordo che tra poco alle 7.30 saremo di nuovo in onda con la rassegna stampa tanti servizi approfondimenti per raccontarvi le notizie da tutta l'Umbria a tra poco